Si sveglia tardi il Machidella Gela che acciuffa solo un pareggio nello scontro diretto con il Belvedere giocato sabato pomeriggio al Presti. Un punto che lascia la mano in bocca ai Biancorossi per un approccio alla partita sbagliato nel primo tempo, arremmante nel secondo. Per i Siracusani invece una gara buttata alle Ortiche dopo un primo tempo suntuoso e con ben tre traverse colpite. A pareggiare i conti per i Gelesi ci ha pensato come sempre Liborio Scudera, autore di una tripletta e ancora una volta bravo a togliere le castagne dal fuoco quando la partita stava andando per il verso sbagliato. Mareggiato, hai detto la parola esatta. La partita si era messa male, siamo svegliati tardi, meritavamo, dovevamo dare di più. E' arrivato questo pareggio, abbiamo guardato nel finale ma non è bastato perché la prossima settimana riposiamo. Con la vittoria potevamo riposare più tranquilli. Vedendo anche gli altri risultati delle partite di oggi, hanno pareggiato le altre due sotto di noi, quindi amareggiato anche per questo. Abbiamo conquistato un punto veramente, perché secondo me la partita, essendo sempre stati sotto di due golle, abbiamo dovuto sacrificarci come per ottenere questo 3-3. Anche se poi alla fine potevamo fare anche il 4-3, però alla fine vedo il bicchiere mezzo pieno. I ragazzi hanno dato il massimo, però può capitare. Abbiamo fatto un approccio sbagliato alla partita e l'abbiamo pagata. In queste categorie quando sbagli ti punisco, soprattutto in alcune disattenzioni, però ai ragazzi elogio sempre perché l'impegno che hanno messo è stato sempre il massimo. Le partite sono così, il calcio non è una scienza perfetta e a volte bisogna sacrificare più del dovuto per ottenere anche un buon dicino. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, ripeto, quindi per me va bene anche il punto conquistato con il Belvedere, che l'abbiamo lasciato là sotto. va sotto per modo di dire perché sono a due lunghezze da noi, quindi meno male che non ci è scavalcato.